L'integrazione dei nuovi è già a buon punto e la gruppo che si è aggregato al Foggia viaggia sul tappeto verde che ha preparato Stroppa. C'è entusiasmo e soprattutto grande armonia. Calderini, Celli, Fedato, Milinkovic, Ramè e Pelizzoli si sono inseriti in tempi rapidi nella famiglia rossonera. Tutti carichi per sfruttare l'occasione e giocarsi con la maglia del Foggia, la carta della Serie B. Non vedono l'ora di scendere in campo. Lo faranno sabato prossimo nel corso della prima amichevole programmata con il Castel di Sangro. Sarà la prima occasione per guadagnarsi una maglia. Nessuno teme la concorrenza all'insegna del concetto di gruppo dettato da Stroppa, già applicato con successo la passata stagione. La preparazione al campionato di Serie B prosegue sulla strada dei vecchi principi. Nel ritiro di Castel di Sangro c'è armonia e serenità. Lontane le voci del calciomercato che ogni giorno annunciano arrivi e partenze. Il mercato è comunque in evoluzione. Prima del 31 agosto qualche novità potrebbe arrivare. In uscita non mancano le offerte per Sainz Mazza. In entrata, è noto, Di Bari cerca una punta centrale. L'obiettivo è sempre galano, trattativa difficile ma non impossibile. L'alternativa rimane Davide Luppi del Verona. Attaccanti in arrivo a parte, il gruppo Rosso Nero cattura la fiducia del popolo. La campagna abbonamenti rispecchia le attese della società. Siamo oltre la metà del percorso. Sottoscritti 4.500 abbonamenti e prenotate altre 1.500 tessere. L'8% delle prenotazioni con la formula Pro Family in collaborazione con la Banca Popolare di Milano.